Ben trovati all'interno di questo spazio di approfondimento, oggi parleremo di scuola in particolare e di liceo statale, un liceo statale importante che ha una grande storia alle spalle, il liceo Turrisi Colonna di Catania e ben trovato il preside, il dirigente, il professore Emanuele Buongiorno, grazie per l'invito dottor Tellini, ben trovato, la novità, subito la novità che è quella che riguarda il corso di coreotico di danza da settembre 2022, sono ancora aperte le iscrizioni, ma delle iscrizioni parleremo tra poco, ci sarà questa grossa novità per il liceo statale Turrisi Colonna Eh sì dottore, noi quest'anno volevamo mettere la ciliegina sulla torta sul nostro 160esimo compleanno, lei con la sua emittente ha già raccontato delle celebrazioni che abbiamo fatto per il 160esimo anniversario in quanto siamo il liceo più antico e più storico, più che antico storico della città di Catania e siccome la nostra mission è sempre conciliare la tradizione e la storia che abbiamo rappresentato nella città di Catania con l'innovazione, con il futuro e con la novità, abbiamo richiesto all'assessorato regionale all'istruzione, al professore Lagalla, questo nuovo indirizzo, il liceo coreutico, la regione siciliana ci ha supportato, il ministero dell'istruzione ha ratificato questa richiesta e dal 18 gennaio col decreto assessoriale numero 32 del professore Roberto Lagalla, al liceo Turrisi Colonna, quindi al centro proprio della città di Catania, tutti i giovani catanesi che amano la danza, ma che non solo amano la danza perché è un liceo e quindi ha un'offerta formativa a 360 gradi, potranno frequentare da settembre questo nuovo bellissimo liceo coreutico. Ecco Preside, ma quali sono i punti di forza di questo nuovo corso? Lei lo ha già accennato perché comunque siamo all'interno di un liceo e quindi c'è un'offerta importante a 360 gradi, ma il corso di coreutico chiaramente non penalizza le altre discipline. No, assolutamente, il vantaggio di questi nuovi licei, il liceo della sezione musicale che noi abbiamo già da una decina d'anni e quello del liceo coreutico che partirà da noi da settembre è proprio questo, quello di dare la possibilità a tutti i giovani che amano la musica e il liceo musicale ed oggi finalmente al centro della città di Catania anche ai giovani e sono tantissimi che amano la danza, di poter continuare a praticare e a studiare la musica perché al liceo coreutico i ragazzi che si iscriveranno potranno sia praticare la danza, studiare anche la storia della danza con la storia della danza, ma oltre a queste discipline di indirizzo proprio della danza, di indirizzo del liceo coreutico, i ragazzi potranno studiare tutte le altre discipline basilari dei licei, quindi l'italiano, la storia, la matematica, la filosofia, l'inglese, avranno quindi la possibilità di coniugare la loro passione per la danza con una formazione adeguata a 360 gradi che tutti quanti gli artisti comunque devono avere per poter sfondare e poi portarsi avanti nella loro carriera artistica e performativa. Vediamo uno spot che avete diffuso, che avete realizzato sui social da qualche giorno, lo vediamo insieme e poi entriamo nel dettaglio delle iscrizioni, perché c'è una piccola differenziazione tra l'iscrizione online e il cartaceo e quindi daremo anche le scadenze. Allora, se la regia è pronta, vediamo questo spot insieme. La danza è lo stato dell'anima che si sprigiona attraverso il movimento. È un'arte che fonde bellezza e armonia. Conciliare scuole e danza è il sogno di tanti che diventa realtà. Nasce a Catania, al centro città, liceo coreotico turisti Colonna. Sono aperte le iscrizioni. Scuole e danza diventano realtà. Abbiamo visto questo spot significativo, breve, ma intenso, anche con un commento. Ecco, Preside, le iscrizioni, ci sono delle scadenze, c'è possibilità per chi ancora non ha deciso ed è lì per fare una scelta? È giusto, è giusto perché questa autorizzazione è arrivata a metà gennaio e quindi diciamo che le iscrizioni online sono ormai quasi arrivate alla loro naturale scadenza. Tuttavia, proprio perché abbiamo avuto l'autorizzazione a metà gennaio, sicuramente l'assessorato regionale ci concederà la possibilità di continuare a raccogliere per tutto il mese di febbraio, sicuramente, ma io sono convinto anche oltre il mese di febbraio, le iscrizioni in modalità cartacea. Quindi ecco, magari tra chi ci sta ascoltando ci può essere anche qualche genitore o qualche ragazzo o ragazza che abbia già fatto l'iscrizione in un altro liceo, perché ancora al centro della città di Catania non esisteva il liceo coreutico. Ecco, diciamo che questi ragazzi possono stare tranquilli, possono telefonare alla nostra scuola o venire alla nostra scuola, al Turrisi Colonna, la segreteria didattica è sempre aperta, la segreteria che si occupa di raccogliere le iscrizioni, e possono tranquillamente presentare le iscrizioni anche in modalità cartacea. Saremo poi noi successivamente a caricarle nel portale informatico del Ministero dell'Istruzione. Quindi non vi preoccupate, non significa niente che le iscrizioni online scadranno nei prossimi giorni, ma c'è la possibilità per chi veramente ha a cuore, ha questa grande passione per la danza e vuole coniugare lo studio della danza con una formazione liceale completa, la possibilità di iscriverci c'è ancora sicuramente. Ecco, in chiusura al liceo statale Turrisi Colonna ci sono tante possibilità, offre tante possibilità di scelta, le vogliamo riepilogare, sintetizzare, abbiamo già detto del coreotico, però ci sono altri punti di forza. Chiaro, abbiamo sicuramente, come dicevo io, la nostra mission è coniugare tradizione e innovazione, esperienza e sperimentazione, quindi offriamo sicuramente l'indirizzo che è proprio quello per il quale siamo nati 160 anni fa, quello cioè delle scienze umane, che tende a formare i giovani verso le professioni ovviamente delle scienze dell'educazione, quindi i futuri docenti, i futuri psicologi, i futuri sociologi, i futuri pedagogisti, eccetera. È il nostro zoccolo duro quello delle scienze umane. Poi abbiamo l'opzione economico-sociale, proprio sempre afferente alle scienze umane, che ha un tratto un po' più tipico per chi ha propensione per gli studi giuridici e per gli studi economici, il linguistico, fra l'altro proprio perché a noi piace sempre dare spazio alle novità, da due anni noi siamo l'unico liceo che a proposito del linguistico ha come terza lingua straniera curriculare e non extracurriculare la lingua cinese, perché siamo fondamentalmente convinti che chi conosca la lingua cinese ha uno sbocco lavorativo sicuro, i giovani che conoscono il cinese avranno uno sbocco lavorativo sicuro, visto la grande espansione economica di questo grande stato asiatico, e poi appunto avevamo il liceo musicale come novità assoluta, che ha un'ottima orchestra sinfonica, da quest'anno anche una banda, e finalmente i giovani catanesi potranno avere la possibilità di studiare la danza con il liceo coreutico. Mi permetta fra l'altro di dire che il liceo coreutico offre tantissimi sbocchi professionali, perché sicuramente chi ama la danza può diventare ballerino professionista con il diploma del liceo coreutico, può provare ad iscriversi a tutte le accademie superiori di danza, in primis l'Accademia Nazionale di Danza di Roma, ma perché no anche ad altre accademie importantissime, si può diventare coreografi, si può diventare scenografi, si può fare il docente anche al liceo coreutico, di laboratorio coreutico e di storia della danza, ma soprattutto si diventa uomini realizzati, uomini soddisfatti e uomini paghi di avere potuto studiare quello per cui uno ha la passione e quello che piace. Professore Rapisarra, io devo ringraziarla e devo chiudere. Il suo sogno nel cassetto adesso qual è? Quale sarà dopo aver raggiunto anche quest'altro obiettivo? Ce lo può già anticipare e poi andiamo in sigla. Quello di lasciare comunque alla città di Catania e a chi verrà, e a chi verrà dopo di me, un liceo che non si accontenta di avere 160 anni, ma che vuole continuare, vuole continuare per tantissimo altro tempo a formare i giovani catanesi e contribuire nel nostro piccolo alla crescita civile, culturale e socio-economica della nostra città. Grazie. Grazie a voi. Grazie a Boccarlupo e buon lavoro. Grazie anche a voi dottore. Lo staff e i docenti, evidentemente, tutti coloro che lavorano a maniche rimboccate per raggiungere obiettivi importanti per i ragazzi al liceo statale Turrisi Colonna. Grazie al preside del liceo statale Turrisi Colonna, professor Emanuele Lapisarda. Ci fermiamo, diamo la linea dunque alla regia. Grazie per aver seguito questo approfondimento dedicato alla scuola e al liceo statale Turrisi Colonna. Grazie a tutti.